E' ormai notizia ufficiale che la seconda stagione della serie Doc Nelle Tue Mani si farà. Il gran ritorno di Andrea Fanti e i suoi colleghi nella nuova stagione di Doc Nelle Tue Mani appassionerà sicuramente molti e possiamo già anticipare col seguito delle vicende. Come sappiamo Andrea Fanti è nei guai a causa della sperimentazione sul farmaco Satonal. Tutte le prove sono contro di lui e la sua amnesia mette di difendersi. Il finale della stagione non scioglierà tutti i nodi, anzi si aspettano tanti colpi di scena. Dunque questa seconda stagione risolverà diverse linee narrative rimaste aperte con un taglio davvero innovativo. Doc Nelle Tue Mani offrirà un importante spaccato sulla realtà ospedaliera contemporanea, facendo entrare la drammatica realtà del Covid-19. Dunque anche l'emergenza coronavirus che ha dilagato negli ultimi mesi farà parte del racconso degli attesisti nuovi episodi di Doc Nelle Tue Mani. Rispetto alla data di uscita della nuova stagione di Doc, è ancora troppo presto per esprimersi con certezza. Ad oggi sappiamo però che l'inizio delle riprese è previsto per il mese di marzo 2021. Quando e dove vedremo le nuove puntate di Doc Nelle Tue Mani 2, non ci sono motivi per pensare a qualche cambio di rete, che rimarra ovviamente su Rai 1. In attesa della prossima stagione. Potete ritrovare gli episodi che vi siete persi dalla serie con protagonista Luca Argentero su Rai Play.